Buonasera a tutti, ben ritrovati al TG7 Basilicata, al nostro appuntamento quotidiano con l'informazione regionale. I carabinieri di Pisticci, supportati da Unità Cinofile e dei carabinieri di Tito, hanno arrestato a Bernalda un cinquantenne. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell'ordine, in quanto ritenuto responsabile di lecita detenzione di materiale esplodente e congeni micidiali. I militari, col prezioso contributo del cane Dax, addestrato al rinvenimento di esplosivi ed armi, sono riusciti ad individuare un deposito nella disponibilità dell'indagato, in cui l'uomo aveva occultato numerosi candelotti esplosivi del peso complessivo di circa 500 grammi, residui di polvere da sparo, numerosissimi inneschi, micce e vario materiale per il confezionamento artigianale di congeni esplosivi, come sfere metalliche, chiodi, manufatti precostituiti per la realizzazione di candelotti e tubibomba. Il materiale sequestrato avrebbe permesso di fabbricare ordini esplosivi micidiali, sia per la potenzialità della detonazione, sia per il possibile impiego delle schegge costituite dalle sfere metalliche e dai chiodi. L'indagato è stato arrestato, accompagnato presso la casa circondariale di Matera, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per chiarire le ragioni della detenzione. Il materiale esplodente è stato posto sotto sequestro e messo in sicurezza. I vigili del fuoco del comando di Potenza nella giornata di ieri sono intervenuti per soccorrere una persona in via Tirreno, proprio a Potenza. Su richiesta del 118, giunti sul posto hanno organizzato la movimentazione di un uomo che doveva essere ricoverato in ospedale. Dopo aver assicurato il paziente a circa 15 metri di altezza con l'ausilio dell'autoscuola, hanno effettuato il recupero e subito dopo ha affidato l'uomo al personale sanitario presente sul posto. Passiamo al calcio. In Serie D, Girone H è stata la giornata dei verdetti. Il Picerno si è classificato secondo e mercoledì incontrerà il Casarano nella semifinale play-off in gara secca al curcio. Nell'ultima gara della regular season i Melandrini hanno regolato il Gravina, Messori per il momentaneo pareggio, per 4-1 con Esposito, Iadaresta, Carnevale e Oyeuale. Il Lavello esce fuori dai play-off perdendo anche l'imbattibilità casalinga. Non basta la doppietta dell'Orfanello, il Taranto passa con Corrado, Rizzo e Santarpi e Salian Serirci. Il Francavilla impatta 0-0 contro il Fidelisandria ed è salvo aritmeticamente. Nel Girone I il Rotonda batte di misura il Paternò con Cesai e raggiunge il secondo record di sempre. Io come ogni sera vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto e vi do appuntamento come sempre qui a domani al TG7 Basilicata. Buona serata.